Epilogo. Sono passati sei anni esatti da quando eri misi piede in terra italiana. Era infatti l'11 settembre del 2018 e in sei anni sono successe molte cose. Racconto questa cosa ripensando a tutte le volte che anche solo per un momento la mia mente si è fermata a una delle numerose avventure che ho vissuto. Ad esempio, pochi giorni prima di Natale del 2018 ero una delle solite cene di auguri e in un momento di pigrizia mi capitò di aprire un sito fotografico. Appena aperta l'interfaccia l'immagine che apparve fu quella di un branco di bisonti in marcia sotto il nevisco al calare della sera mentre attraversavo il ponte di Gardiner. Sorrisi pensando a quel ponte che avevo percorso tante volte e quella grande orde di bisonti in cerche di cibo passate attraverso la terra degli uomini per cercare pascoli migliori. Decisi che le foto che avevo fatto non dovevano rimanere nel mio archivio senza che potessi raccontare anche agli altri le bellissime avventure che avevo vissuto le emozioni che avevo provato, le storie che potevo raccontare. Per trasmettere l'amore di quel luogo nel quale, come dico sempre, ho lasciato un pezzo di cuore e dove un giorno mi piacerebbe tornare. Parrai con mio cugino, Gisho, che è un maestro d'arte e gli dissi che mi era venuto in mente di fare la mostra con le fotografie che avevo scattato durante il soggiorno in America. Accetto di aiutarmi, in poco tempo la mostra fu definita nei tempi, nella durata e nelle scadenze che andava rispettate per farla proseguire al meglio. Quale foto divennero poi un articolo sul periodico Concordia della città di Cantù e nel mese di luglio 2019 prese il via la tanto sospirata mostra e fu bellissimo ogni singolo passaggio che portò a essa. Dalle foto che rividi, di volta in volta con Gioia Crescente, alla Gioia di condividere ciò che avevo vissuto raccontando gli aneddoti del viaggio e i luoghi. Sentiva il fruscio dell'erba mentre il coyote cacciava avvalzando nella radura, il rugito dei bisonti in amore e quel puntino dell'unico orso nero che vidi. Udiva lo sciabordio delle acque del lago e il vento gelido, le labbra secche e gli occhi piccoli per filtrare quel sole pallido intenso. Le albe, i tramonti. Pensai a continuare a raccontare le storie di Yellowstone e i visitatori della mostra a diffondere ancora l'amore per quel luogo magico. E così, in un pigro e caldo pomeriggio del luglio Canturino, mentre la mostra avevo visitatori, mi venne l'ispirazione di scrivere un libro. Un libro di storie uniche e magiche su Yellowstone per conoscere la magia del parco e dei suoi abitanti, unendo la narrativa alla conoscenza. Nel giro di due settimane era pronto il testo, in un paio di mesi era impostato per come lo potevo immaginare, poi sono trascorsi gli anni. In mezzo a tante cose, con il lavoro e tutto, il ricordo comunque era rimasto vivo. Per un anno rimase nella mente l'idea di farlo diventare un audiolibro, in modo così che fosse ancora più facilmente accessibile per poter trasmettere ancora meglio le storie. E così, nel giugno-luglio del 2024, quel libro che avevo scritto è diventato un audiolibro, diviso in capitoli, e che ora, probabilmente, avete appena finito di ascoltare. Sperando che, anche solo per un secondo, abbiate amato Yellowstone tanto quanto l'ho amato io. Se vi ho fatto provare questa sensazione, allora ho raggiunto il mio scopo. Grazie a tutti. Andrea, 11 settembre 2024.